Farsi trovare pronti all'appuntamento con la storia, tutto qui. In questa frase nitida e lapidaria si può riassumere la questione città degli ulivi, che esplose in settimana, certo, ma che da tempo covava come fuoco sotto la cenere. Il destino del bitonto calcio, infatti, potrebbe cambiare decisamente nei prossimi giorni e vedere i neroverdi fare ingresso tra i professionisti, si spera sfoggiando una casa più che dignitosa. Dunque, era domenica 11 novembre 1928 quando, su un terreno donato dalla famiglia Ferrara in via Megre, si tenne, come segnala lo storico Gianvito Rubino, l'inaugurazione del campo sportivo dell'Hittorio, progettato dall'ingegner comunale Salvatore Ambrosi, coadiuvato dal geometra Francesco Piepoli. Nel corso di quasi un secolo di vita, numerosi sono stati gli interventi su qualche ora e lo stadio città degli ulivi. Il più significativo fu voluto dall'amministrazione Coletti, in concomitanza con Italia 90 e l'Approdo dei Leoncelli in interregionale. Fautore di quel restyling fu Franco Natilla, grande appassionato di sport, segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e consigliere comunale, che oggi è preoccupato per le sorti della struttura, attualmente non conforme ad un eventuale passaggio in Lega Pro, è quindi tutta da adeguare. Bisognerà dimostrare di essere in regola con determinate caratteristiche standard, ricorda Natilla nella missiva inviata al sindaco Michele Abaticchio, a cominciare dal possesso di una tribuna dotata di almeno 1.500 seggiolini per posti a sedere e del dispositivo di sicurezza previsto per il settore della tifoseria a ospite, con minimo 500 posti numerati, oltre alla curva da destinare agli ultras locali. Il rischio, conclude il consigliere, è quello che per una palese negligenza dell'amministrazione la squadra, seppur promossa, venga di fatto esclusa dal campionato. Chiamato in causa, l'assessore allo sport Domenico Nacci ha risposto tempestivamente. Siamo al lavoro da tempo, ha rassicurato tutti, per elaborare le progettualità tecniche necessarie all'adeguamento del nostro stadio. Abbiamo incaricato una società di professionisti di fornirci tutto quanto è necessario per poter sopraelevare la curva e adeguare l'impianto sportivo alle normative vigenti. La pandemia ha interrotto il processo, ma Nacci chiarisce. Già dal 4 maggio, con le limitazioni imposte, si riprenderà l'Iter. La nostra volontà è continuare a contribuire ai successi della nostra comunità sportiva. Grazie a tutti.